Guardare al futuro cercando di far rivivere le aree interne attraverso la creazione di opportunità lavorative ed economiche di rilievo. Un tema che è stato affrontato nei giorni scorsi a bello sguardo nell'ambito dell'incontro promosso dall'Associazione Remain dal titolo Semi di Futuro, rientrande nell'ambito del più ricco programma di eventi della prima edizione del Food Experience Festival ideato da Gianni Alfonso Peduto. Tra i relatori del convegno anche il vice direttore generale della Banca Montepruno, Conno Federico, che ha dunque avuto l'occasione di affrontare anche negli Alburni una problematica già sottolineata dal direttore Michele Albanese ai microfoni della RAI nel corso della trasmissione Azzurro Storie di Mare. Lo spopolamento ma soprattutto riportare nei territori delle aree interne del mezzogiorno chi ha lasciato le proprie case mettendo la propria professionalità al servizio di altri territori. Il convegno, svoltosi presso la Sala Consigliare del Comune di Bello Sguardo e moderato dalla giornalista Romina Rosolia, ha consentito però di evidenziare come anche il Meridione e l'area sud di Salerno presenta numerose potenzialità dal punto di vista imprenditoriale, grazie anche alle esperienze imprenditoriali sviluppatesi nei territori degli Alburni. Diversi gli interventi che si sono susseguiti nel corso del convegno con contributi interessanti arrivati da esponenti del mondo imprenditoriale, politico e associativo presenti sul territorio a testimonianza della vivacità di un tessuto imprenditoriale capace di creare economia. Dati che, come sottolineato dal Vice Direttore Generale della Banca Monte Bruno Cono Federico, spingono l'Istituto di Credito a investire sempre più sul territorio. Il Dottor Federico, nel corso del suo intervento, ha confermato il forte impegno della BCC nata nel Comune Alburnese di Roscigno, dove mantiene la propria sede legale per garantire un futuro sostenibile anche ai piccoli centri e per offrire ai giovani la possibilità di costruirsi un futuro nella loro terra. Promuovere l'imprenditoria anche in territori rurali, spiegano dalla Banca Monte Bruno, significa garantire sostegno a territori anche remoti, garantendo l'impiego di personale qualificato in realtà imprenditoriali di successo.